Pronti? Cominciamo, quindi 1, 2, difesa, difesa, 1, 2, difesa, difesa, bravi, 1, 2, 1, 2, difesa, difesa, 1, 2, bloc, bloc, 4, 1, 2, bloc, bloc, 5, quindi un po' più vicino, 1, 2, bloc, bloc, 1, 2, bloc, bloc, 7, attenzione, 1, 2, 8, bloc, bloc, ok, 1, 2, bloc, bloc, 9, va bene, 1, 2, bloc, bloc, e ancora una volta, non dimentichiamo, bloc, 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 e 1, 2, bloc, bloc, perfetto.